Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 per lavori si sono formati 7 km di coda in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Firenze Peritola. Sulla Fipi Lico, code a tratti tra Lassrassinia e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze Impruneta. Chiudiamo con i treni fino al 21 settembre per lavori. Sulla linea Grossito-Siena la circolazione è sospesa tra Grossito e Buon Convento, prevista riprogrammazione del servizio con corse bus. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!